direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi martedì 13 agosto il jackpot ha raggiunto la cifra di 209 milioni 160.441 euro il più alto al mondo le 90 sfere numerate sono state caricate e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 97 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 32 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 76 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 75 pronti per il quarto numero? il quarto numero estratto è il numero 7 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 41 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 59 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly estratto di questa sera è il numero 21 controlliamo insieme alla sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 32 76 75 7 41 59 numero jolly 21 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in allotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar estratto di questa sera è il numero 11 ricontrolliamo tutti i numeri estratti il concorso numero 97 in ordine crescente 7 32 41 59 75 76 numero jolly 21 numero superstar 11 l'estrazione di oggi martedì 13 agosto termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 209 milioni 160 mila euro il più alto al mondo è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 97 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super in allotto assegna 597 mila 550 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 209 milioni 100 mila euro sarà stato centrato il 6? ebbene sì super in allotto regala il primo jackpot del 2019 la combinazione vincente è stata centrata nella ricevitoria sisal di via cavur 46 all'odi vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote il 6 si aggiudica 209 milioni 160 mila 441 euro nessun 5 più 1 i 5 sono 5 e vincono 63 mila 109 euro ciascuno i 4 sono 661 e vincono 482 euro ciascuno i 3 sono 27 mila 938 e vincono 34 euro ciascuno i 2 sono 489 mila 523 e vincono 6 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 21 mila 881 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 5 e vincono 48 mila 286 euro ciascuno i 3 stella sono 195 e vincono 3 mila 455 euro ciascuno 100 euro vanno i 3 mila 78 2 stella 10 euro ai 23 mila 139 1 stella 5 euro ai 53 mila 5 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi super in allotto vi dà appuntamento a sabato 17 agosto giocheremo per un jackpot di 50 milioni di euro arrivederci